Innanzitutto abbiamo voluto far parlare lo straordinario contesto nel quale ci troviamo e la chiesa di Santa Maria in Grotta sui Monti Aurunci. Abbiamo raccolto insieme amici artisti che avessero una sensibilità tale e per formazione e per capacità emotiva di dialogare con un sito così ingombrante. Le sculture sono prive di enfasi, sono estremamente umili. L'atto performativo è proprio il momento in cui io decido di dare il suono a queste tre campanelle e mi trasformo in una colla. L'opera che ho eseguito a questa mostra è in un certo senso la visualizzazione del movimento che un fedele fa per avvicinarsi alle mete del pellegrinaggio. È il suono prodotto dall'azione del cervello, sono le onde cerebrali che si alzano, si abbassano a seconda dell'intensità che il nostro pensiero sta avendo. Mi sembrava interessante rappresentare questa patria all'interno dell'ecclesia, di questa chiesa, per me madre. È tutto presente nel registro di questa performance per confermare e affermare il principio che noi siamo uno. Una tappa importantissima del mosaico che compone il Medioevo di questa regione così importante che noi in qualche modo abbiamo scoperto per la prima volta attraverso questo gesto performantico e questo ci rende molto più gratificati di qualunque altro tipo di esperienza simile vissuta in precedenza. Grazie a tutti!